Tutto pronto? Bentrovati da Lucio Di Mauro, questo è Mediarte, Pillola di Cultura, un concentrato di eventi sempre su questa emittente che ormai è un'apripista, Sicilia 242, sul canale 242, noi siamo la prima emittente in Sicilia, copertura nazionale in chiaro. Oggi avremo un collegamento, quindi parleremo di arte, cultura, spettacolo, cinema, parleremo veramente di una cosa straordinaria, la diciannovesima edizione del Festival Philosophy Lungo L'Oglio, che è iniziato il 5 di giugno e fino a 24 luglio del 2024 concentrerà un po' l'attenzione di tutti. Ma prima di presentarvi la mia ospite che è collegata da Brescia, in provincia di Brescia, partiamo con la sigla. E meno male che ci sono queste emittente, queste realtà televisive che accorciano un po' le distanze. Noi andremo a cercare, a scovare i vari festival che sono sparsi nella nostra penisola, sono veramente tanti e sono veramente da apprezzare un po' tutti perché c'è tanto lavoro certosino. Come questo festival, la diciannovesima edizione dei Filosofi Lungo L'Oglio, fino a 24 luglio dicevo prima, in 21 comuni italiani. Ma per andare nei particolari io saluto e ringrazio, abbiamo collegato dalla provincia di Brescia, Francesca Nodari. Ciao Francesca. Ciao a te Lucia e a tutti i telescoltatori. Allora Francesca, intanto grazie sempre per la tua disponibilità perché è in corso questo festival, quindi ti abbiamo rubato tra virgolette, però è giusto parlarne perché quando ci sono questi festival particolari, delicati e poi la cultura va veramente forte, mi fa piacere. Senti, tu sei una filosofa levinasiana e allieva di Bernard Kasper, sei direttrice scientifica del festival che poi è giunta appunto alla sua diciannovesima edizione. Dove si sta svolgendo? Io prima dicevo in 21 comuni. Caro Lucia, si dici molto bene, in 21 comuni italiani il nostro è un festival itinerante e una delle sue caratteristiche precipue è proprio quella ad ogni data di cambiare luogo e relatore. È un festival che si svolge principalmente tra le province di Brescia, di Bergamo e di Cremona, soprattutto i comuni che aderiscono sono concentrati nella provincia di Brescia e cerca di unire questo festival ovviamente la filosofia con la scoperta delle bellezze del nostro territorio perché la nostra Italia è ricca di bellezze che si possono anche scoprire andando a ascoltare una relazione, una lezione magistrale. Poi a proposito del ricca anche di questo scenario, apro una parentesi, di questo scenario che hai dietro le spalle che è straordinario, tu sei una collezionista di arte sacra? Io amo molto l'arte sacra quindi come vedete alle mie spalle, sono nel mio studio, ci sono queste sculture a cui tengo molto e alle quali ho dedicato tempo, ricerca e una grande passione. Bene, allora Francesca andiamo a parlare appunto di questo festival in stretta continuità dicevo con il tema osare della passata edizione, adesso invece è stata lanciata la parola chiave della nuova edizione di questo festival 2024, desiderare. Perché desiderare? Perché oggi siamo in una società sempre più connessa, ce lo diciamo molte volte, una società dove dovrebbero moltiplicarsi le possibilità di incontro, ma il problema, uno dei problemi della nostra contemporaneità è quello che il reale viene scambiato molto spesso col virtuale. Si fa molta più fatica a fare comunità, si fa molta più fatica a stare gli uni con gli altri e paradossalmente ci si sente, dico paradossalmente, ci si sente molto più soli. E allora il festival diventa anche un modo, anche un'occasione per fare comunità e per stringersi come a me piace dire attorno al maestro, idealmente riportare Socrate in mezzo alla gente come succedeva in Grecia. E poi è bello anche che ho cercato un attimo di rubare alcune cose, come intuì Michel Foucault nelle parole e le cose, cioè ciò che rimane perennemente impensato nell'intimo e nel pensiero. Francesca. Esatto, è un qualcosa che è davvero perennemente impensato, ma poi i nostri relatori abbiamo già avuto parecchi ospiti, da Massimo Recalcati a Massimo Cacciari, a Enzo Bianchi, a molti altri, alla Catherine Chalier, una importante filosofa morale francese, a Stefano Zamani, Umberto Curi, Haim Barriè, Andrea Tagliapietra, davvero la sottoscritta stessa che ha parlato di desiderio avvenire. Io mi permetto di utilizzare un'espressione molto breve, ma secondo me molto importante, che si trova in un testo di questo filosofo, uno tra i più importanti filosofi del Novecento, ebreo-lituano naturalizzato francese, il quale definì il desiderio come un prurito temporale. Allora, per semplificare molto, io credo che da subito si debba distinguere tra bisogno e desiderio. Noi tutti abbiamo dei bisogni che dobbiamo soddisfare per poter sopravvivere, bisogno di alimentarsi, bisogno di respirare, bisogno di destetarsi. Ecco, mentre un bisogno viene colmato, un desiderio è un qualcosa di, per Levinas ad esempio, ma non solo per tanti altri, è un qualcosa di insaziabile, è certamente un qualcosa che va sempre oltre e che lo si può vedere, ad esempio, nell'altro, che certamente non possiamo mai ridurre a noi. Nel momento in cui si riduce a noi stessi l'altro, si rischia di soffocarlo. Facciamo partire il video, una clip e poi ritorniamo in studio. Beh, certo, abbiamo visto un po' il calendario pienissimo. Senti, Francesca, desiderare, questo è il leitmotiv di questa edizione, il desiderio fisico e quello mentale, sono la stessa cosa? Desiderio fisico, no, non sono la stessa cosa, è una bellissima domanda, è una domanda che meriterebbe del tempo per poterla affrontare e poter scavare nel profondo. Sono due desideri diversi, il desiderio fisico è evidentemente l'eros, è il piacere innanzitutto, il piacere buono. E perché dico piacere buono? Perché noi, purtroppo, lo dico come donna, lo dico perché sono anche personalmente impegnata in questa battaglia contro la violenza sulle donne. Quando dicevo prima che l'altro non si può mai ridurre a sé, ecco, non si può pensare di, nessun uomo può pensare di ridurre una donna a sé, non può essere amore quello di una persona che vuole possedere una donna o peggio ancora perché è stato lasciato ucciderla. Questo è un elemento molto importante sul quale si deve stare molto attenti e sul quale si deve porre la massima attenzione. Certo, desiderio fisico, dicevamo, vado molto veloce, e poi il desiderio mentale. Noi ci nutriamo di immagini, c'è un Spinoza dedica delle pagine molto importanti dell'Etica al Conatus, alla Cupiditas e anche all'immaginazione. Però di quali immagini parliamo? Ci sono delle buone immagini, ci sono delle immagini che possono illuderci invece, sono le immagini della pubblicità. Ad esempio, senza demonizzare la pubblicità, però l'era del consumismo nella quale noi viviamo ci illude che quei prodotti che ci offre siano oggetto di desiderio. Ma attenzione, quali sono semplicemente degli pseudo desideri che ci devono indurre ad acquistarli, ci devono indurre a spendere. Ecco, bisogna stare molto attenti. Infatti, dici bene, tu hai toccato dei punti importanti dell'argomento che poi si ramifica ognuno in un percorso, in un meandro veramente particolare, onirico. Sono argomenti impegnativi che ovviamente per ovvi motivi non possiamo affrontare adesso. Senti, Francesco, sicuramente è un viaggio nella cultura pieno, pieno veramente di interesse in questi giorni fino al 24 di luglio. Tutti gli incontri diciamo che sono ad ingresso libero, ma la missione della Fondazione Filosofi lungo l'Oglio, qual è? Tutti gli incontri sono ad ingresso libero, tranne alcuni, comunque sul nostro sito Filosofi lungo l'Oglio.it si trovano tutte le informazioni. La missione di Filosofi lungo l'Oglio è quella di portare la cultura laddove la cultura fa più fatica a radicarsi, laddove ci sono delle terre meravigliose, le province. La provincia che diventa protagonista, c'è un ribaltamento, si verifica un ribaltamento, oso usare questa espressione importante durante il festival. Ecco, durante il festival la provincia diventa protagonista rispetto alle città e quindi la periferia diventa centro. Questo io credo che sia molto importante. I nostri territori sono territori fatti di persone concrete, di persone laboriose, di grandi imprenditori, di grandi lavoratori, ma anche di persone alle quali se vengono offerti dei prodotti culturali, mi permetto di utilizzare questo termine, ecco rispondono e rispondono molto. Io posso, Lucio, precisare questa cosa. Il festival di filosofia, il nostro come il festival di Modena, è un prodotto squisitamente made in Italy, non dimentichiamocelo. In altri paesi, mio maestro me lo raccontava sempre, Bernard Kasper, in Germania, ad esempio, in Francia, negli altri paesi europei, è stato provato, sono state fatte delle prove per capire se potesse funzionare un festival di filosofia. La risposta è no. La risposta è che le adesioni erano molto basse. Da noi, nel nostro bel paese, invece c'è una bella notizia. La bella notizia è che la cultura diventa feconda, la cultura cresce e la cultura diventa contagiosa. La nostra è una maratona, davvero anche fisica. Le persone fanno anche, percorrono decine e decine di chilometri, soprattutto i super appassionati, quello zoccolo duro, per ascoltare di volta in volta il relatore o la relatrice che sono stati chiamati appunto per riflettere sull'argomento. Francesca, tu hai detto delle cose belle, delle cose straordinarie. La cultura deve essere sempre messa in risalto. Tu, con il tuo caso, ma ce ne sono tantissimi in Italia, per fortuna, che cercano un attimo di portare avanti questo messaggio della cultura. Anche qui a Catania, qui in Sicilia, per fortuna, si sta cambiando in meglio. Si va sempre ad ottenere dei risultati con tanta forza, con tanto impegno, sicuramente, travagliato, come dici tu, gente che si muove, fa tanti chilometri proprio per stare accanto, per ascoltare, per cercare di capire, per leggere. Noi abbiamo avuto Tau Bucco, te ne potrai leggare tantissimi qui a Catania, in Sicilia, a Taurmina, ma in tutta Italia, in tutta Italia. Quindi benvengono questi festival come questo il tuo. Senti, c'è un albero per ogni uomo che ha scelto il bene, è così? Sì, senz'altro. Questa è un'iniziativa, è una frase che è tratta dal Talmud, ti ringrazio, ed è un'iniziativa che noi portiamo avanti soprattutto nel mese di marzo e consiste nel piantare un albero per tutte quelle persone che si sono spese in difesa della vita e contro le persecuzioni, contro le barbarie, contro quella che può essere l'oppressione dell'altro. Si chiamano giardini dei giusti. Grazie per avermi dato la possibilità di accennare a questo aspetto importante, ma soprattutto volevo farti, fare i complimenti a tutti gli amici siciliani. Noi abbiamo anche persone che ci seguono dalla tua bellissima terra e io sono molto felice di questo collegamento perché mi sembra che le distanze, nonostante ci vediamo da remoto, si accorcino ed è così. Ed io spero, perché io ne sono sicura che accadrà, che anche persone della Sicilia possono venire da noi. Noi vi aspettiamo a braccia aperte. Ci sono anche le passeggiate filosofiche che sono un modo per riappropriarsi del nostro rapporto con le cose, con la natura, con l'ambiente. Ecco, tra l'altro ricordo che uno dei filosofi, tra l'altro è stato anche un mio maestro, che è ospite fisso del festival, Salvatore Anatoli è un vostro conterraneo, è nato a patti. Vero, vero. Giochiate assolutamente in casa e non soltanto con Salvatore Anatoli. Bellissimo, bellissimo. Mi è piaciuto questo tour filosofico, quindi queste letture filosofiche, questo entrare in merito a tutto questo. Senti, abbiamo il calendario, abbiamo il calendario da mandare in onda, così magari se ti vuoi soffermare su alcune date particolari, è da seguire tutto ovviamente, però qual è quello che tu sottolinei? Un'altra figura, un famosissimo antropologo, appunto Salvatore Anatoli, un'altra figura. Guardate, per quanto mi riguarda sono tutti appuntamenti, mi permetto di dire imperdibili, sono relatori e relatrici d'eccezione che meritano di essere ascoltati. Ricordo che il 24 luglio, ecco Lucio se posso dire quest'ultima cosa molto importante, non solo si chiuderà il feste, ma si chiuderà con la nostra madrina Maria Rita Passi, noi annuncieremo come consuetudine la parola chiave del prossimo anno. Noi l'anno prossimo festeggiamo 20 anni e allora magari degli amici dalla Sicilia potranno anche venire da noi. Noi vi aspettiamo davvero con molto piacere. Puoi annunciare quale sarà la parola chiave? No, questo lo faremo nel corso dell'ultima serata e ci stiamo lavorando. Le consultazioni, come oso dire, scherzando, sono state aperte. Vedremo, si sta lavorando molto. Bene, senti, e per chiudere, quali sono le tue prossime pubblicazioni? Stai preparando qualcosa? Sì, ho appena pubblicato tre testi di cui ho fatto la prefazione e la cura, un testo di Catherine Chalier, Partire, Sperare e Rinnovare e poi un testo di Giallina Sippa nel nostro quotidiano e poi un testo di Natoli Perseverare. Io ho scritto alcuni libri su Levinas, Il male radicale, il curato, la nuova edizione italiana del tempo e l'altro, Temporalità infinita, Il bisogno maestro. Insomma, sono tanti i testi sui quali ho cercato di dare il mio punto di vista e di lavorare, e ora sto lavorando ad un libro che raccolga i saggi più importanti di questo grande pensatore tedesco, Bernard Kasper, che purtroppo è scomparso l'8 giugno dell'altro anno e che rappresenta un gigante per la filosofia e anche per la sottoscritta che ha avuto il grande onore di poterne essere allieva e che sente l'onere e il dovere di portare avanti la sua voce, i suoi pensieri e i suoi insegnamenti. Grazie, grazie Francesca Nodari. Io volevo ringraziare anche Elisabetta Castiglione che ha curato tutto questo, ha fatto in modo che questa intervista, questo collegamento, andasse in porto. Francesca, andanto io ti auguro ogni bene, in bocca al lupo perché ancora c'è molto da lavorare fino al 24 di luglio, voglio ancora ricordare il 19esima edizione, Festival Filosofi Lungo L'Oglio, iniziato già il 5, ma fino al 24 c'è ancora tempo, quindi andate a trovare questo festival, andate a scoprire, andate ad emozionarvi proprio perché poi il tema è bello, desiderare, dovete desiderare la cultura e di affrontare ogni cosa. Francesca, grazie ancora. Grazie a te e a tutti coloro che ci stanno ascoltando, ti aspettiamo, vi aspettiamo, grazie per l'opportunità. Grazie, grazie a voi. Tenete sempre il paro alto sulla cultura, grazie, è importante. Assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie Francesca. Bene, a questo punto, grazie, a questo punto finisce così questa puntata di Mediarte, Pillola di Cultura, dalla Lucio di Mauro e tutto, e c'è quella frase che dico sempre, se potete, provate a prenderci. a questo punto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.